E se fossimo qui per una ragione? E se fossimo parte di qualcosa di veramente divino? Immaginate 91 miliardi di anni luce percorsi così. Immaginate. Tuo padre ha realizzato qualcosa di straordinario. E di pericoloso. E' intrappolato da un'oscurità che si diffonde attivamente in tutto l'universo. E' l'unica che può fermarla. Sei tu. Sei una guerriera. Ci proverò. Verrai messa alla prova a ogni passo. Non fidarti di niente. Tesoro? È ora di cena. Vi siete persi? L'unica cosa più veloce della luce è l'oscurità. E' l'unica cosa più veloce della visione. E' l'unicaEC visa. 時 Grazie.